Prima di due delicate trasferte per Riviera Banca Rimini, che per l'ottava giornata di campionato e con un ruolino di marcia che parla di due vittorie a fronte di cinque sconfitte, fa visita a Cividale, che è in classifica a quattro punti come Biancorossi. Prima della palla due viene osservato un minuto di raccoglimento per le vittime del nubifragio che ha colpito la Toscana. Berti approccia bene la gara segnando i primi quattro punti dei locali. Di De Lagnello il più quattro sulla 6 a 2. E Scarponi con il suo quinto punto a segnare il primo sorpasso biancorosso, 6 a 7. Azione da quattro punti di Mastellari per il 12 a 9. Ma ancora Scarponi colpisce dall'arco, 12 pari. Parziale di 9 a 0 per Rimini, con i canestri di Grande, Marx e Johnson e ancora Marx, 12 a 21. Tomassini fa toccare ai Romagnoli la doppia cifra di vantaggio sul 14 a 24. Marotta replica e al decimo il tabellone segna 17 a 24. Rimini va sul più 11 con Tomassini, 21 a 32. Si sblocca Redivo, 24 a 32. Mastellari riporta sotto i suoi, 33 a 39. Ma il finale di frazione è un 5 a 1 per i ragazzi di Ferrari, che vanno a riposo dopo due canestri di Johnson, avanti di 10, 34 a 44. Il terzo parziale si apre bene per Riviera Banca. La tripla frontale di Simeoni vale il più 13, 34 a 47. Il canestro di Capitan Masciadri fa toccare a Rimini il massimo vantaggio, più 15 sul 40 a 55. Miani, con 9 punti nella frazione, tiene a galla Cividale, 48 a 57. E Rota, con l'ultimo canestro del Tempino, riduce ulteriormente il gap, 50 a 57. Marx è ridaffiato a RBR, 50 a 59. Ma l'inerza è cambiata. Dell'Agnello, Redivo e Mastellari trovano i canestri che riportano i friulani a meno 2. Di Redivo il pareggio, 62 a 62. E dopo la tripela di Simeoni, è ancora Redivo a pareggiare, 65 a 65. Dell'Agnello fa rimettere il naso avanti alla Gesteco dopo una vita, 67 a 65. Marx, dalla lunetta, a meno di un secondo, fa 2 su 2, 67 pari. Miani sbaglia l'ultimo tiro e si va all'overtime. Johnson realizza l'ultimo sorpasso riminese, 72 a 74. Di Mastellari il controsorpasso, 75 a 74. Cinque punti di fila di Miani scavano il solco, 79 a 74. Johnson è l'ultimo ad arrendersi, 79 a 77. 16 punti più 16 rimbalzi per l'americano. Ma ancora Miani, che chiude con 23 punti più 13 rimbalzi, e Mastellari, che fa 1 su 2 liberi, sanciscono l'82-77 finale. Vince Cividale, RBR resta a 4 punti in classifica.